Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà al cimitero monumentale di Fortogna e subito dopo alla Diga per due momenti di commemorazione dall'alto valore istituzionale. Nel sessantesimo del disastro del Vaiont queste sono le righe del programma che spiccano forse di più nella giornata del 9 ottobre. È per noi un onore avere il Presidente e soprattutto la testimonianza della vicinanza alle comunità del Vaiont da parte dello Stato che è la responsabile principale di questa tragedia. E quindi siamo veramente orgogliosi e sarà un momento toccante perché si svilupperà sia nella sua presenza in cimitero a Fortogna sia nell'area della Diga. Il programma delle prossime settimane prevede anche altri momenti salienti dalla cerimonia di consegna a questo sabato del premio I Murazzi a sette realtà che si attivarono per la raccolta fondi post Vaiont, RAI, Corriere della Sera, Gazzettino, La Stampa, Radio Televisione Svizzera, Federbim e Camere di Commercio alla seduta del Consiglio regionale a Longarone, mercoledì 4, all'intitolazione del viale davanti alla fiera ai soccorritori del Vaiont domenica 8. Le proposte sono molte e si possono trovare sul sito della fondazione Vaiont. Il senso è quello di trovare un ponte tra l'impegno molto fisico di chi si rimboccò le maniche per salvare il salvabile e quello soprattutto intellettuale delle giovani generazioni sul fronte della prevenzione. Uno sforzo che dura da tutto l'anno e che sconfinerà anche nel prossimo. Vogliamo esprimere gratitudine e riconoscenza verso tutte quelle persone che hanno aiutato le nostre comunità a ripartire e lanciare un messaggio affinché i giovani possano prendere il testimone della memoria. Una memoria che deve essere viva, collettiva e che deve soprattutto raccogliere in sé i significati e i valori che questa tragedia ha portato, soprattutto nel non commettere più gli errori che sono stati fatti e cercando soprattutto di lanciare quei messaggi legati alla prevenzione del territorio che penso siano indispensabili e fondamentali nel legame con il Vaiont.